Stava cercando di rubare i soldi del fondocassa, circa 200 euro, ma non ce l'ha fatta. La polizia è arrivata nel noto ristorante di Umberto Carriera, la macelleria in via delle Galigarie a Pesaro, attorno alle tre e mezza di questa notte e ha colto il ladro in flagranza mentre stava compiendo il furto. L'uomo, un extra comunitario, aveva provato a giustificarsi dicendo alla polizia di essere entrato nel locale trovato aperto per usufruire di un riparo per dormire, ma il malvivente era adagiato sul pavimento alle prese con il registratore di cassa di cui aveva già tagliato i fili. Il ladro è finito in manette. Solo un po' di spavento per i titolari Umberto Carriera e Michele Tagliabracci che non hanno subito alcun danno al locale se non quello della stessa cassa che è stata danneggiata. Il ristorante questa sera è ripartito col servizio. Abbiamo trovato tutto in ordine, tranne come ho detto prima la cassa, però ecco fortunatamente la polizia è venuta subito all'interno del locale trovando comunque sia il ladro, quindi non ha fatto niente di grave a livello dell'interno del locale. Però logicamente il danno alla cassa è stato fatto tagliando fili perché portando via comunque sia il nostro fondo cassa. Ho sporto venuto questa mattina e sono appena tornato dalla questura, ho fatto la denuncia e adesso vedremo come avverrà la situazione. Sicuramente la polizia farà il suo corso e ci sarà una direttissima. Ecco ora ripartirete col servizio? Come si evolverà la situazione? Sì, partiremo col servizio perché se non partiamo in questo momento è meglio partire perché comunque dopo sette mesi che siamo fermi, logicamente anche quel poco che facciamo è meglio farlo e quindi faremo subito, stasera ci mettiamo subito all'opera per sistemare la cassa, il registro di cassa e aspettiamo stasera i nostri clienti. Grazie. 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 Grazie.